E ragazzi, come va? Io sono Ferinich E io sono Stefano e Sergio che mi ha Minecraft E siamo qui su Minecraft in compagnia di Espy Jockey, Luca, Lion e Anna Esattamente, questo oggi faremo un qualcosa di molto strano Avete presente Player on Battlegrounds? Ecco, lo riproduciamo su Minecraft ma con pure le Lucky Block Quindi praticamente ognuno sarà da solo Quindi io e Fer, Lion e Anna, Espy e Luca saranno team da due Ognuno sarà da solo e ci dovremo fare la guerra tra di noi Partiremo senza armi, dovremo cercarle in giro E dovremo utilizzarle per riuscire a vincere Le regole di questo gioco di sopravvivenza sono semplici soldati Abbiamo tre minuti di invulnerabilità Per cercare provviste armi, munizioni, cibo e bendaggi Dopo questi tre minuti un tuono segnerà l'inizio della guerra E a quel momento sarà fuoco libero per tutti Siete pronti a partire? Sì! Bene! Allora la guerra abbia inizio! Fere, 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 fere Aiuto Stef! Allora, abbiamo tre minuti per trovare qualcosina Dovrebbero esserci dei Lucky Block in giro Ok Stai attenta a non cadere perché non possiamo recuperare la vita Quindi stai attenta, abbiamo soltanto un cerottino per curarci E fidati che non basta Qua c'è un Lucky Block Lo apro, fere Ti va? Vai tu, vai tu, vai tu Potrebbe esserci qualsiasi cosa Oddio! Fere? Che succede? È positivo o negativo? Non lo so, secondo te? Non ho idea A cosa può servire? Non lo so Andiamo, andiamo, continuiamo Andiamo, andiamo, andiamo Uh, ci sono anche la Ione Danna Allora, ascoltami Entriamo dentro il bunker Dato che loro sono qua fuori Entriamo dentro il bunker Ok, ok Mi sembra un'ottima idea Ci dovrebbe essere un passaggio segreto per farlo Sì, l'ho già visto prima Bisogna premere Allora, aprimi il bottone e io corro Ok Perché devi essere straveloce qua Entra, 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 entra Non sei ancora aperto, aspetta Ok, dimmi quando sei entrata Vai, vai, adesso, adesso, adesso S'entrata? Sì Ok, adesso vado io Mi ha mezzo schiacciato la porta Corri, 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 corri Ok, eccomi Ok, perfetto, 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 perfetto Allora, andiamo al secondo piano E iniziamo ad esplorare un pochettino, Fere Dobbiamo stare attenti perché abbiamo ancora poco tempo Ok E per ora abbiamo solo una pistolina Allora, io andrei di qua Vediamo un pochettino Tipo room 203 Vediamo cosa c'è dentro Ok Allora, qua c'è un diamantino Che dovrebbe esserci utile Ok, senti no Qua c'è una chest con un po' di cose Prendo tutto io per adesso E apro la key block Sei pronta? Sì Stai un po' distante perché può essere pericoloso Ma di nuovo la stessa cosa Ma dai, che è? No, aspetta, è diverso da prima È diverso Mi sa che non abbiamo il piccone per prenderlo Lascia perdere, non perdiamo tempo Andiamo, Fere, andiamo Conviene che guardiamo stanze diverse Dato che per ora tanto non ci possono ammazzare Eh, sì, 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 assolutamente Ok Ok, sto trovando un sacco di mirini Qualcosina per curarmi E un po' di armature Però nessun'arma Allora, io per ora ho trovato solo un diamantino Delle ragnatele e degli stick Ok, nessun'arma, neanche tu, Fere Ah, aspetta Però sì, ho trovato un silenziatore Stick, tre diamanti Uh, ho trovato un fucile Uh, e anche un medikit Un medikit Ho trovato un fucile, ho trovato un fucile, Fere Oh, ottimo Questa è un'ottima cosa E dentro, ok, c'è un'altra pistola Perfetto, può far comodo E guarda il livello di armature Allora, me la indosso Tieni Questa ce l'ho extra Oh, grazie, 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 grazie E poi io ho anche gli stivaletti Dopodiché ho questo fucile Che posso mettermi tranquillamente in barra Non so se questi proiettili sono per questo fucile Sì, 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 sì Allora, si chiamano Punto 30-06 Ah, vediamo che cosa ho Sei quelli Mi sono utili Altrimenti no, Fere No, no, allora no Allora no, mi dispiace Mi dispiace Fere, Fere Apri la keyblock tu Io sto controllando perché lì c'era Lion Quindi dobbiamo stare un po' atenti Ok Prova ad aprire anche l'altro Che è successo? Eh, sono i posti famosi di cui ti parlavo Ok, aspetta Che cosa sono? Vabbè Qualcosa, qualcosa Cosa di strano Fere, andiamo via Andiamo via, qua è pericoloso Ok Allora Hanno preso loro la parte buona Scendiamo ancora più sotto Ok, ok Allora Dove andiamo? È pieno di cose Ufficiale Shelter Fere Shelter, che dici? Dai, sì Abbiamo qualcuno qua fuori Come? Stai attenta Allora, io mi metto qua e sparo Allora No, bisogna aprire la porta Vado Ti proteggo No, è Lion Aspetta, aspetta Aspetta Ho paura, Fere Cosa? Hai sparato? Sì Ma si può? Attraverso la porta? Non pensavo Forse l'ho colpito, non lo so Io pensavo che la porta bloccasse i colpi E anche io Mi ha tolto due cuori e mezzo Ma pensa te Allora, aspetta, aspetta Si sta muovendo bene Ci ho incastrato qua dentro praticamente Provo a controllare Aspetta No, non ti esporre tu Non ti esporre Ok, ok Non ha senso che ci spugniamo entrambi Trova ad uscire fuori col coltellino Vai all'impazzata Vai C'è ancora? No, non c'è più nessuno Ok, meglio, meglio, meglio Ma non abbiamo portato l'altra Lucky Block Vado Uuuuh, blocchi d'oro Blocchi d'oro, blocchi d'oro Questi possono essere utili Troviamo un fucile a pompa, dannazione Allora, qua c'è un tablet Non credo che sia utile No, penso proprio Non ho idea ma non credo Quindi non lo prendo Poi, qua ci sono un sacco di munizioni Molto bene Ho trovato questa che è carinissima come arma Ok, la prendo e lascio via questo Che non ce ne facciamo nulla Tolgo via questa pistola Dato che ne ho già un'altra Guarda che bellina questa arma, Ferre Fai vedere? Guardami Oh, ma che carino Sì Apro questo? Vai Però spostiamoci un po' Perché sono pericoloso Sì, ho paura, ho paura Ok, armatura in ferro Ma me la prendo io Mi finisco di mettere quello che mi manca Va bene, anche se mi serviva anche a me Ah, vabbè, prendita No, no, no Ormai l'hai presa Ormai l'hai presa Ormai l'ho sgobbata Quindi mia Allora, aspetta Aspetta, c'è un fucilone qua C'è un super fucile Sono nell'altra stanza Quella a fianco Ecco ti, ecco ti Ok, c'è un fucile che si chiama tipo Remington Che sembra super forte Allora Non so se lasciarlo a te Aspetta, cerco di capire Qual è più forte Vai, vai Facciamo un ragionamento Questo è questo Forse questo è il fucile a pompa, sai? Eh, allora, dall'aspetto sì Mi sembra proprio quello Ok Allora, vuoi il fucile a pompa? Eh, sì, dai Ok, tieni Mi hai munizioni? Perché io ne ho parecchi Del fucile a pompa, eh Dimmi un po' Vieni, Fer, prendi anche quelli Prendi anche quelli Sì, ne ho solo otto, purtroppo Otto in tutto Ok, ok Mi raccomando È un'arma fortissima E devi essere brava Perché le Oh, 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 oh Aia Dove sei? Mi hanno sparato Scappa, Fer, scappa, scappa No, gli uccido Scappa, Fer Dove sei? Attenta, attenta, attenta No, sono davanti a noi Sono davanti a noi Ho visto Espy e Luca Devi aprire una porta Dobbiamo entrare dentro la porta Ok, aspetta Veloce, vacce, vacce Io controllo se arrivano Veloce, Fer Ti porta, vieni Corri, 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 corri Ok Riaprimi Riaprila, riaprila Entra Ok Ok Aspetta Mi devo curare Mi devo curare Mi devo curare Allora Ho anche un medikit Serve? Ti serve? Sì, dammelo, dammelo, dammelo Tini, tieni Nel mentre mi curo con i cerotini Io mi posiziono qua davanti Col fucile a pompa Luca mi ha tolto tipo metà vita Con un colpo Quindi hanno qualche fucile Davvero forte Qualche fucile Sì, assolutamente Mamma mia che paura Allora, sono nel nostro stesso piano Mi sa che siamo tutti in questo piano Mi sa Che la cosa più intelligente da fare È provare a scendere ancora, Fer Che dici? Dici Sì Nasconderci proprio Vado? Andiamo Andiamo, andiamo, andiamo Ho paura che siano ancora qui fuori Allora, aspetta Qua non vedo nessuno Qua non vedo nessuno Ok Ti seguo, ti seguo Sono dietro di te Continuo a correre Nel caso sparo, eh Non c'è nessuno Io mi trovo davanti lo sparo Usciamo da qui Ok Aiuto, 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 aiuto Ah, mi hai lasciato fuori Attenta, 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 attenta Non posso aprire le porte quando ho un fucile in mano E quella è la cosa fastidiosa Ho la stessa difficoltà, Fer Devo cambiare Fer Qualcuno ha chiuso Ma dici? Sì, Fer Dici che chiuso Sì, 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 sì Hanno cercato di chiuderci fuori, Fer Ma no, perché? Che cattiveria Allora, sai che cosa facciamo? Noi li controchiudiamo Uh, hai ragione Te ne servono altri o ne hai? Perché hai chiesto un pieno Riempi, Fer Ok Questa è vendetta Ci chiedono fuori dai posti E noi li incastriamo lì per sempre E noi li riempiamo di ragnatele Dai, basta Così mi sempre Aia Mi hanno sparato sopra di noi Aspetta, io mi curo, eh Attenta Attenta, attenta, attenta Ti conviene usare la pistola da questa distanza Io ho sparato Allora, vedo Espi Ok, stanno scappando Stanno scappando Li inseguo? Ok No, aspetta Piano però, piano Non esageriamo Aiuto, ferò paura Eh, anche io Allora, sono ancora lì Sono ancora lì Ci stanno correndo Attenta, attenta, attenta Non so se dalla porta possiamo sparare Quindi dobbiamo stare super attenti Non so che fare Allora, io ho la pistola Ok La pistola mirata C'è Luca che ci stava guardando Vediamo Non so se li ho colpiti Non so se li ho colpiti Però ho sparato un sacco di colpi Bene Dimmi Mi sa che sono ancora qua fuori Allora Come qua fuori? Perché? Sì, perché sono sempre qui Allora, andiamo via Seguimi, seguimi, seguimi Dove sei? Qui, 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 qui Ok, veloce Nascondiamoci Veloce Perché mi incastro in tutto la porta? Allora, 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 allora Io preferirei nascondermi in questo momento Perché secondo me perdiamo uno scontro Non siamo abbastanza armati Quindi continuiamo a cercare qualcosina Ok, ok Vorrei avere almeno un aroma in più Qua c'è del cibo inutile Degli stivaletti inutili Forse c'è già passato qualcuno Apro il lucky block Allora, tu pensa lì Io controllo la porta C'è un gatto Ciao Selli Non so se va a picchiare Vai, lasciamolo così Oh, se magari uno di quei gatti che morde Che graffia Forse può essere utile Dici che ci dà una mano e ci dipende? Sì, magari sì Magari sì Non lo so, non lo so Allora, proviamo a vedere se qua c'è qualcosa Mi sembra come se qui avessero preso le cose importanti Eh, infatti Qui lascio stare Qui lascio stare Dai, andiamo Aiuto No Aiuto Oh, che cavolo Aiuto D'altro che gatto Ma qui ti ho ucciso un ragno Mamma mia Mamma mia Dove sei finito? Dove è? Dove è? Non so più dove sei tu Io sono scappato correndo Lui è chiuso Lui è chiuso Lui è chiuso nella stanza Lascialo perdere Ok, 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 ok Continuo piano piano a curarmi Sto recuperando vita Mi ha quasi ucciso Perché ti fa pure bruciare Fare quello lì È scattivissimo Che ti è scappato bruciando Ti ho visto bruciare Mi ha fatto un sacco di male È vero Sento dei rumori Come senti dei rumori? Qui no Io me ne sento però Sei solo tu che li senti Qua davanti mi sa Sì Sembra tipo un rumore di acqua Non lo so fare C'è uno scheletro Oh, l'ho schivata Oh mamma mia Oh mamma mia Pronto a spararlo, eh Usa la pistola per non sprecare i proiettili utili Ok Ok Ho finito Devo ricaricare Fare, sparalo, sparalo, sparalo Ho sparato, l'ucciso, l'ucciso Tranquillo È difficilissimo sparare con sta pistola Dimmi che non c'è nessun altro Ok, sembra bene Vedi, sta piovendo da qui Vedi che avevo ragione Che c'era un rumore Ah, ecco, ok Ottimo, ottimo Non mi... Cioè, secondo me perdiamo malamente Se incontriamo qualcuno Non mi sento pronto Qua ci sono ancora tutti i lucky block Ok Quindi vediamo se magari per una volta Abbiamo un po' di fortuna Diamanti No Che sono very good Fare Fare, vai via Corri via Corri via, fare Corri via Accidento A me non hanno ancora notato Sto morendo, sto morendo Mi stanno notando Fare un problema Mi stanno notando Inizio a correre intorno Perché devi avere così tanta sfiga Ma che cavolo Spiegami Ma che cavolo Cioè, noi siamo incastrati Da queste streghe Che sono comparsa a caso E nel mentre loro Si stanno ammazzando Tutti a vicenda Li vedi, li vedi Ma quello era Espy? Sì Ma che fa lì in mezzo? Ma è pazzo Ma perché corso dritto? Allora, praticamente Sai cosa è successo? Ahà Allora, Luca ha ammazzato Anna E l'Ion ha ammazzato Luca Capito? Quindi penso che Espy stesse scappando da Lion Ok Allora, noi continuiamo a restare qua E guardiamo che succede Anche perché quelle streghe Non so bene come Stanno prendendo del danno Quindi pieno pieno stanno morendo E non ha senso perdere vita noi Quando possiamo aspettare un po' E farle morire da sole Allora, sto preparando tutto per combattere Ho un buon equipaggiamento Adesso sono abbastanza tranquillo Perché ho un'arma sia da vicino Che una da lontano Che non è male E una mela Uaaaa Aiuto, scappa Oh mamma mia Che cosa hanno fatto? Sfiga C'è la postura Sta arrivando, sta arrivando Scappa, 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 scappa Ma come scappa? Ci toglie troppa vita Non fa, non fa, non fa Non possiamo affrontarla Allora, se si avvicina qua Prova a spararla col fucile Quindi spostati Ok C'è la nostra sfida Non è contro gli altri Ma è contro queste streghe Solo noi Non è possibile però Strega Ok, l'ho colpita Allontanati, allontanati, allontanati Bravo, ci sono Ci penso io Perché rischio soltanto di colpirti poi Ok Ok, l'ho mancata Aspetta Ok, colpita Ok, è morta Ok, bravissimo Sì, però sto sprecando colpi Dannazione E lo so, anch'io non ne ho molti Perché li sto usando sempre per ammazzare questi Allora, ce ne sono almeno Almeno, almeno Almeno altre tre Come facciamo? Non lo so Fammi vedere se qua ce ne sono Ok, colpita Ok, colpita È morta Ok Perfetto Ce ne sono altre due Allora Aspetta, aspetta, aspetta Credo che si stiano colpendo a vicenda Sì, sì, sì È notato Dovrebbero essere basse di vita Teoricamente Ok, una è morta E... Mentre mi sto allenando Qualcuno Ha aperto la porta Vai dietro il muro Vai dietro il muro Ok, aspetta Ok Chi è? Credo di averlo colpito Ok, l'ho colpito di sicuro È l'ion, è l'ion È scappato, è scappato, è scappato È l'ion, è l'ion È l'ion, è l'ion Proviamo ad andare ad ammazzarlo Oh, no, 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 no Occhio Sì, scappò Fare, dimmi che è tutto ok Sto sparando, sto sparando Dimmi che non ti ha colpito No, 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 tranquillo Devo uccidere È morta? No Ok, ho mangiato una mela d'oro Seguimi, metti il fucile a pompa e andiamo Proviamo a inseguire l'ion ed ammazzarlo Ok È andato di qui di sicuro Io vado Ok Vai, vai Raggiungimi il prima possibile Ho buttato il mitra per sbaglio No, 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 che stai facendo Perché sei un casino Devi darmi il mitra Devi darmi il mitra Eccolo, tieni Ok Mi prendite l'accidente a te Che cosa lo lanci? Ok, ho sbagliato Mi schilicato a fare Dov'è? Dov'è? Io non lo so Non lo so dove Aiuto Spara per Aia, aia Mi ha tolto un po' di vita Mi ha tolto un po' di vita Anche a me, mi ha preso pure a me Come accidenti ha fatto? Non lo so, non lo so Mi ha tolto metà vita Allora, tu esponiti, tu esponiti Io ne metri mi curo un pochettino Dovrebbe essere basso Dovrei averlo colpito un po' Mi ha fatto una paura incredibile Mi metto il cucino a pompa e mi prepara Mamma mia Ci sei, ci sei Sì, sono qua, sono qua, sono qua Però non sono neanche più pieno di vita Cioè, sei lì in giro Se ti interessa Aspetta, aspetta Mi uso un cerottino Ok, me ne metto anche un altro Forse è meglio se lo uso pure io Almeno per recuperare parte Aspetta che ricarico Ok Io non so dove sono È quello il problema Aia Da dove? Da dove? Mi è ucciso Mi stavo curando Alle mali Devo scappare Devo scappare Devo scappare Vai, 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 vai Aiuto, aiuto, aiuto Aiuto, aiuto, aiuto Ok Cerotto, 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 cerotto Ne devo mettere un altro Io non so se sa dove sono Non ho più cerotti Sono basso di vita Che paura, Fer Fer Eccolo, no Sei morto pure te Ma che mi combini Se io confidavo almeno in te Ma che mi combini Fer Avevo un'arma parecchio forte Aveva il fucile a pompa Esatto C'è anche Espy morto Ciao, Espy È morto di sicuro Fammelo sparare Ha, ha, ha Beh ragazzi Se non è così Lasciateci un like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerarli Da iscrivervi Per non perdervi Di altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.